Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. È con un sentimento di profonda tristezza che vi porto una notizia che ha gettato un'ombra sul panorama del cinema italiano. Abbiamo perso un artista di straordinaria bravura, un attore che non solo ha brillato per il suo talento ma è stato anche profondamente amato e rispettato nel settore. Figure come Christian De Sica e Massimo Boldi, amici e colleghi di lunga data, hanno condiviso parole piene di emozione e dolore per questa perdita. Non si può negare che Luis Molteni avesse una sorprendente somiglianza con Danny De Vito, ma al di là di questo, era un uomo che avrebbe raggiunto il traguardo dei 74 anni questo novembre se non ci avesse lasciati così prematuramente a Roma. Fino all'ultimo respiro, Molteni ha continuato a regalare la sua arte, mantenendosi attivo nel mondo del cinema con la sua ultima apparizione nel film Romeo e Giulietta, sotto la regia di Giovanni Veronesi. Nato il 5 novembre 1950 a Seregno, Molteni ha inciso profondamente nel mondo del cinema e del teatro in Italia, lavorando a fianco di nomi illustri come Sergio Castellitto, Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, solo per nominarne alcuni. La notizia della sua scomparsa ha segnato la fine di una carriera luminosa, accolta con affetto e ammirazione dal pubblico, lasciandoci nel mistero sulle cause della sua morte.